La pioggerellina fastidiosa e le temperature basse non hanno fermato i ragazzi della CR delle 459 parrocchie padovane che in piazza delle Erbe hanno festeggiato la Domenica delle Palme insieme al Vescovo Claudio Cipolla. Un pizzico di era il tema pensato per quest'anno, una ricetta ideale per pensare agli ingredienti necessari per affrontare la vita. La festa è stata animata dai ragazzi che hanno preparato i dolci, la dolcezza dello zucchero, l'amaro del cacao, ovvero le difficoltà della vita, sale, peperoncino, ma l'ingrediente più importante e che serve sempre è il lievito, ha detto il Vescovo. Non si vede ma dà volume e amalgama l'impasto, per me questo è Gesù, ha ricordato Don Claudio. La festa è proseguita con il lancio di palloncini colorati e una breve processione tra le piazze insieme ai ragazzi e ai loro genitori, anche il sindaco Sergio Giordani.